Giuseppe Pica, candidato non solo alla Regione Puglia, ma anche un contributo alla lista Fratelli d'Italia per Lucera al Consiglio Comunale. Una decisione importante per avere ancora più persone che possano rappresentare anche la città. Una decisione importante ma molto sofferta. Avevo deciso sei anni fa di non candidarmi più in Consiglio Comunale, anche perché ero da ragazzo quando ho iniziato a fare il Consigliere Comunale al mio paese di origine, in provincia di Salerno, e poi mi sono trasferito qui in Puglia. Lo ho fatto il Presidente del Consiglio per dieci anni. Il partito me l'ha chiesto. In un momento di difficoltà fare le liste nel mese di agosto non è stata impresa facile, ma non solo per noi, per tutte le liste, per tutti i partiti. Basti pensare, faccio un esempio, che in alcuni comuni, come l'Esino, un paese non piccolino, di 5-6.000-7.000 abitanti, credo, è stata presentata una sola lista, non c'è una lista di opposizione. A Casalvecchio altrettanto. Quindi le difficoltà sono stati tali. Il partito mi ha chiesto questo sacrificio. Ripeto, è stato sofferto anche perché molti danno l'impressione che Pica si candida sempre, voglia ricoprire a tutti i costi una poltrona, si candida su due posti. Non è così, perché il mio impegno per la città di Lucera ci sarà e se sarà necessario, lo deciderebbe il partito, valuteremo la situazione dopo le elezioni, se sarò eletto in Consiglio Comunale, se fare spazio alle forze giovani. Che è il mio obiettivo? Di creare, di dare un contributo in modo particolare che venga costituita, creata una classe politica di ragazzi giovani, che è il nostro futuro. Fratelli d'Italia in Consiglio Comunale e con il centro-destra, con il candidato sindaco Giuseppe De Sabato. Al quale va dato un grosso ringraziamento. Giuseppe De Sabato era anche lui Tito Bante, però io credo che sia stata la scelta migliore, perché come pure per la candidatura alla presidenza della Regione Puglia, se non ci fosse stato fitto a fare le liste, io non so il centro-destra come si sarebbe. La stessa cosa si è verificata su Lucera. Io credo che Giuseppe De Sabato, con la sua esperienza, col suo impegno, perché è stato anche assessore, quindi io sono dell'avviso che uno vale uno, non esiste più. L'esperienza occorre, è necessaria, perché il fallimento di questa precedente amministrazione è dovuta soltanto all'inesperienza, alla credine che si è creata, alla lotta, alla divisione, all'odio che si stava creando tra le forze politiche. Giuseppe De Sabato, con le forze politiche che lo sostengono, potrebbe dare veramente una svolta alla città, che non sarà impresa facile, perché amministrare la città in una fase di commissariamento che è ancora in atto, nessuno se lo aspica. Sarebbe stato auspicabile che se la gestissero la precedente amministrazione, però questo significa essere un po' vigliacchi e vili. Le imprese si affrontano anche con le dovute difficoltà.